Snellire la macchina comunale è questo il motivo della conferenza stampa di oggi. Parlerete della riorganizzazione al comune di Pescara, tanti dipendenti, alcuni con quota 100 andranno in pensione, ma poi soprattutto l'obiettivo è quello di diminuire il numero dei dirigenti comunali. L'obiettivo principale è quello dell'efficienza, cioè di rendere un comune che oggi ha molti dirigenti, 16, e che funziona molto male nonostante la presenza di professionisti lodevoli. Bene, tutto questo, la riorganizzazione dell'ente porterà sì a una riduzione del numero di dirigenti, ma soprattutto a una maggiore efficacia nei servizi che vengono erogati al cittadino, perché il comune deve funzionare non per se stesso ma per la cittadinanza. Attualmente abbiamo 16 dirigenti. La macrostruttura creata dall'attuale amministrazione, quindi dal centro-sinistra, prevede 16 posizioni dirigenziali, di cui in particolare due che sono quelle dei capodipartimenti. Il Movimento 5 Stelle al governo della città eliminerà queste due figure, che sono delle figure di coordinamento ma che non hanno sostanzialmente potere di firma, dando quindi un maggiore coordinamento al direttore generale, potendo quindi eliminare quattro figure dirigenziali con un risparmio di circa 500 mila euro, che potranno essere reinvestiti in servizi per la città ed anche in posizioni organizzative, diciamo di subordinazione rispetto ai dirigenti, in modo da organizzare l'ente in maniera più efficiente.